E' venuto a trovarci Raffaele Talarico con una startup, allora raccontiamo come chiedo sempre a tutti quanti, raccontare in cosa consiste la startup. Smart Innovation è una startup nata circa un anno fa da quest'idea, l'idea che è stata appunto nominata plug che non è altro che è un trolley che ci facilita il modo di viaggiare, lo rende più semplice e lo rende sicuramente anche più sicuro. In particolare diciamo che il trolley presenta al suo interno un brevetto che consente attraverso il semplice trascinamento del trolley di ricaricare quelli che sono i nostri device, sia esso uno smartphone o un tablet. Lo stato dell'arte di questa startup? Allora, lo stato dell'arte della startup abbiamo effettuato la fine del secondo prototipo, lo stiamo attualmente testando, infatti i ragazzi sono rimasti apposta per ultimare alcuni test sul secondo prototipo e in più abbiamo l'idea di ulteriormente sviluppare questo prototipo rendendolo ancora più compatto e sicuramente più efficiente. Supponiamo che comunque da qui a breve, entro la fine dell'anno, avremo un prototipo definitivo con la quale poter iniziare alla fase comunque di lancio sul mercato. Infatti la mia domanda era proprio questa, le dimensioni del trolley e le dimensioni, cioè all'interno c'è comunque un piccolo motore che trasforma l'energia cinetica? Le dimensioni del sistema che comunque produce la corrente fondamentalmente non sono più grandi della ruota stessa, diciamo che è abbastanza compatto quindi non occupa spazio all'interno della valigia. Per quanto riguarda la valigia stiamo studiando un attimino quelle che possono essere eventuali... Le misure forse anche standard di quelle che si possono portare a bordo. Sì, sì, sicuramente stiamo cercando di vagliare quelle, anche se sicuramente ci saranno anche possibilità di stringere delle partnership con coloro che i trolley li producono e sicuramente sarà sicuramente un'occasione... Quindi ancora diciamo non li avete contattati? Stiamo lavorando in quest'ultimo mese anche su questa parte visto che stiamo ultimando la parte di prototipazione. Esperienza qui al premio? Bellissima esperienza, bellissimo posto, bellissime persone. Grazie, grazie a voi. Anche loro li aspettiamo l'anno prossimo. Assolutamente non mancheremo. E anche loro a questo punto come azienda. Certo, se riescono un paio d'anni li possiamo dare. Assolutamente, anche di meno, cerchiamo di fare di meno.